Eh sì sì, oggi si è visto in particolar modo e questa cosa veramente mi riempie il cuore di gioia proprio perché per la porchetta di Monte San Savino, oltre a una carne di ottima qualità del nostro territorio, utilizziamo solo ed esclusivamente ingredienti certi, assolutamente, però facciamo vedere quelli che sono gli ingredienti naturali, finocchio in fiore della nostra valdichiana che non potete sentire il profumo ma lo degusterete all'interno della nostra porchetta, aglio in camicia fatto nel comune di Monte San Savino, sale marino e pepe macinato, questi sono solo gli ingredienti, mettiamo poi il fegato e la porchetta è pronta, il segreto non lo diciamo a nessuno. Tony mi hanno detto che hai fatto un gran gol, ce lo racconti? Sì sì, forse più importante che bello perché era fondamentale passare il turno, era quello che veramente desideravamo più di qualsiasi altra cosa in questo momento, quindi ora lo abbiamo ottenuto, grandissima palla di Simone dalla fascia laterale sulla destra e sul secondo palo colpito di testa sul primo palo del portiere, quindi bene. È stata una grande partita anche perché l'avversario era abbastanza ostico. Esatto, è una squadra grossetana, ho avuto anche una piccola esperienza nel grossetano e sapevo che affrontavamo una squadra con tantissimo carattere e così è stato. Sono stati solidi, aggressivi come ci immaginavamo, però oggi lo siamo stati parecchio di più e secondo me la vittoria è stata la cosa giusta alla fine. Cosa bella è che siete una squadra compatta, che cresce, partita dopo partita. Sì sì, oggi si è visto in particolar modo e questa cosa veramente mi riempie il cuore di gioia proprio perché è così che si vince, si riesce ad ottenere dei risultati di squadra in fondo al campionato e continuiamo così. Adesso bisogna recuperare energie fisiche e mentale e pensare al prossimo avversario. Esattamente, esattamente, recuperiamo, ci abbiamo quattro giorni e oltretutto recuperiamo anche due giocatori che erano squalificati oggi, che è Sereni e Pascucci, che sono fondamentali anche loro e recuperiamo tutto il più possibile, nel minor tempo possibile e test assolutamente alle piazze. Grazie. Grazie a te. Grazie a te.